Buonasera a tutti e benvenuti a un'altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Questa puntata si concentrerà sul caso mediatico del momento, sto parlando della relazione appunto scoppiata all'interno della casa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma a bando alle ciance chiediamo subito a Cecilia, la protagonista di questa storia d'amore, insomma che cosa ne pensa, come si sente. Cecilia ci senti? Mi sento una merda, mi sento una merda, chiedami, una merda. Sì va bene Cecilia, insomma abbiamo capito che ti senti una merda, volevamo capire però insomma come è prociata questa relazione con Ignazio. Ho sempre cercato di andare bene agli altri, di cambiare per gli altri, però non ero ceccio, non ero me stessa, non ero vera. Questa è più parlare con Cordo, devo parlare con Cordo. Allora Cecilia guarda purtroppo ti devo avvisare che Francesco Monte è stato invitato appunto dalla redazione qua in puntata, però non ha accettato e quindi se vuoi dirgli qualcosa insomma vuoi farlo adesso. Cordo, Cordo, se mi senti volevo dirti, seguo i tuoi sogni, non pensare a me. A me non piaceva perché tu volevi cambiarmi, a me non piaceva questa cosa perché non ero io. Questa voglia di vivere di Ignazio mi fa stare bene, mi fa sentire viva, mi fa sentire libera. Per cui quello che ti posso dire è segui i tuoi sogni, segui i tuoi sogni. Va bene Cecilia, grazie mille per il tuo intervento, insomma abbiamo capito che segui i tuoi sogni, is the new, te sta scaricando. Ma c'è qualcuno che invece la pensa in maniera completamente diversa da come la pensa Cecilia. Sto parlando di Simona, Simone Izzo. Simona ci sai, mi senti? Sì, Leri, allora sì, io ho conosciuto Cecilia, l'ho conosciuta una ragazza estremamente innamorata del suo fidanzato. Dopo aver visto insomma quello che è successo, mi sono chiesta ma questa ragazza dove ha lasciato l'etica dell'abbandono. Una volta insomma c'era un'etica nell'abbandono, ci si lasciava in maniera etica, ecco. Non c'è bisogno di spettacolarizzare tutto, ecco, il diavolo sta nella mente di chi lo crea. Va bene Simona, grazie mille. Ci terrai invece a sapere cosa ne pensa il fratello di Cecilia. Sto parlando di Jeremias, uscito da pochissimi giorni dalla casa del grande fratello Vip. Jeremias ci senti? Sì, Leri. Allora, sinceramente io gliel'ho detto, se l'ho detta mia sorella, tu puoi fare quello che vuoi. Se ti fa felice, fallo. La vita è una sola e non devi perdere tempo. Volevo ringraziare anche tutti gli italiani per avermi fatto uscire dalla casa, perché adesso posso fare finalmente il c***o che voglio, insomma. Volevo anche salutare la mia futura moglie, Aida. Ci vediamo qua fuori, ti aspetto. Un beso molto grande. Ma a proposito di Aida, Aida ci senti? Ci dovrebbe essere un collegamento a Aida? Sì, allora, senti Aida, il grande fratello ti deve fare una comunicazione, praticamente dopo quello che è successo, insomma, con Jeremias dentro la casa. Sì, Leri, ma se non è successo niente. Ecco, Geppi, il tuo fidanzato Geppi, che appunto sta al di fuori della casa del grande fratello, ha deciso di lasciarti. Cosa? Ma non è successo niente, si scherzava, siamo qua dentro da 58 giorni, stavo scherzando. Geppi, devi stare tranquillo, perché non è successo niente, veramente. Santi, Aida, purtroppo c'è una lettera dietro di te? Dacci la d'alta voce, per favore. Un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti. Hai mancato di rispetto a me e al nostro amore. Non ho mancato di rispetto, Geppi. Geppi, stavo solo scherzando, siamo qua da 58 giorni. Va bene, Aida, allora, guarda, io ti dico di stare tranquilla, perché, insomma, sono sicura che Geppi capirà, ci sarà modo di chiarire tra di voi, insomma. Invece, passiamo a parlare di Ignazio, insomma, colui, la ragione per il quale Cecilia Rodriguez ha deciso di interrompere una relazione che durava da ben 4 anni con Francesco Monte, insomma, un gran pezzo di ragazzo. Ecco, Ignazio, ci senti? Senti, Ignazio, cosa ne pensi di Cecilia, insomma, sei innamorato? Sì, Larry, allora, Cecu è sicuramente una ragazza fantastica, cioè, penso si sia visto che il nostro amore va al di là di tutti, cioè, i pregiudizi. E, niente, quando sto con lei, sto bene, mi sento leggero e puoi stare con lei dal mattino, quando mi sveglio, alla sera, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ma soprattutto in tutti gli armadi. Grazie mille, Ignazio, invece, passiamo a Luca Onestini. Insomma, Luca, cosa ne pensi tu di questa relazione, insomma, tra Cecilia e Ignazio? Hai qualcosa da aggiungere? Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Allora, ci deve essere, come sempre, un problema di audio, perché non ci siamo capiti. Luca, ti ripeto, hai qualcosa da aggiungere sulla relazione di Cecilia e Ignazio? Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Allora, no, chiudiamo il collegamento, ci deve essere per forza un problema di audio, insomma, non capisco bene il nesso logico tra quello che gli chiede, insomma, e questa canzone ridicola che canta. Allora, passiamo invece la parola a Giulia, Giulia Dell'Ellisi, insomma, una ragazza con molti valori, una ragazza molto romantica. Cosa ne pensi tu, Giulia, di questa relazione nata in una maniera un po', insomma, opinabile, ecco? Ciao, Hillary, buonasera a tutti. E se devo essere sincera, all'inizio ero un po' di dubbante, più che altro perché pensavo a Francesco, insomma. Però poi ho pensato, ho ragionato bene, ho detto, se è successo così, evidentemente, perché doveva andare così, sono sicura che Francesco troverà sicuramente una ragazza più adatta a lui e l'importante è che l'amore ti rionfi sempre, insomma. E a proposito d'amore, volevo salutare Minou, che lo amo quel primo giorno e mi manca tantissimo, e le mie bimbe. Ciao a tutti. Grazie mille, Giulia, sentiamo invece cosa ne pensa Cristiano. Cristiano, puoi aggiungere qualcosa? Hillary, amore, guarda, mi astengo dal commentare, tanto sei già detto di tutto e di più. E comunque sono già ubriaco. Quanti uccelli, cin, avete visto quanti uccelli? Peccato che stanno solo in aria, qui dentro sono tutti morti. E ticuticutà, e ticuticutà. Va bene Cristiano, ti promettiamo che ti faremo trovare tantissimi nuovi uccelli dentro la casa del grande fratello VIP. Questa è una promessa, insomma, qui lo dico e qui lo nego. Va bene, allora, attenzione, dalla regia mi dicono che c'è un ultimo velocissimo intervento, perché poi dobbiamo andare il tassativo. Insomma, pare sia Belen, la sorella di Cecilia, che vuole dire appunto la sua su tutto questo polverone che si è sollevato per colpa della sorella e degli armadi. Insomma, ecco. Ciao Hillary, tesoro, guarda, io sono veramente veramente incassata nera ultimamente. Sto querelando tutti quelli che si permettono di dire mezza parola su mia sorella, su quello che fa. Addirittura c'è gente che si inventa grazie a non bere. Ma stiamo scherzando ragazzi, tanto perché una persona segue il proprio cuore e decide di lasciare una persona. Ma ognuno sarà al libero di fare quello che vuole. Ma chi siete voi per giudicarci? Noi siamo ragazze bene, ragazze genuine e va bene così, nessuno ci deve giudicare. Ok? Con questo concludo. Hai perfettamente ragione, Belen, guarda, lo sai che la penso sempre come te. Insomma, sei una ragazza molto sincera, molto vera e questa cosa la penso pure di tua sorella, il tuo fratello, di tua madre, di tuo padre e di tutta la tua famiglia. Se è fatta una certa, a questo punto non mi rimane che salutarvi. La puntata finisce qui, ahimè, vi mando un bacione dalla vostra Hillary. Ci vediamo la prossima puntata del Grande Fratello VIP. Per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale del Grande Fratello Marina, ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social, cioè Facebook, Instagram e Musical.ly. E soprattutto se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, mettetevi un like, lasciate i miei commenti. Insomma, bella raga, ci si vede al prossimo video.